Ciao amici! Volete sapere un segreto insolito per combattere cellulite ritenzione idrica? Certo, che domande! Bene, quello di oggi è facile facile. Si tratta di introdurre nella dieta un particolare minerale che aiuta a combattere la ritenzione, le cause della cellulite e fa sentire più sgonfie e leggere. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Il segreto è il potassio. Ma che noia! Guarda che funziona! Tra i benefici del potassio favorisce l'eliminazione delle scorie dalle cellule, per questo ha un effetto drenante molto efficace. Poi aiuta ad avere più energia e a sentirsi più attivi e positivi, che non guasta mai. Ecco i migliori cibi ricchi di potassio. Legumi, crescione, indivia, cavolo, sedano, prezzemolo, zucchine, ravanelli, melone, cavolfiore, funghi, zucca, melassa, banane. Cosa faccio? Mescolo tutto? Ma no! Non segui i miei video? Come dico sempre, la soluzione migliore è mangiare tutti questi cibi a rotazione durante la settimana nei diversi pasti. Così la dieta è completa, non ci annoiamo e assumiamo ogni giorno nutrienti sani. Se volete accelerare i benefici potete bere tanta acqua almeno in un litro e mezzo al giorno. Evitare dolci industriali pieni di zucchero, alcolici, eccesso di grassi animali. E ovviamente fare attività fisica, anche moderata, ma ogni giorno. Per vedere tanti altri video come questi basta iscriversi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando la campanella delle notifiche qui sotto. Mangia sano e dimagrisci! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri e ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!